oddio mio adesso si metta a cantare ma speriamo di no ragazzi 100 giorni ci siamo sta per cantare no piano bond non dobbiamo farci sentire si lo so ma tanto ha scongiurato il pericolo per qualche secondo è anche vero che se si accogge c'è qualcuno allora si che si metta a cantare sta arrivando qualcuno signorina caselli signorina caselli non canti per l'amor di dio la prego signorina caselli per favore non canti stia un po buona e invece canto porca miseria ce la farà non farla cantare sarà meglio chiamare rinforzi via radio caterina non faccia sciocchezze stanno arrivando le motovedette dei militari eccola stai pronto signorina caselli un avvertimento se lei canta saremo costretti ad aprire il fuoco che gli avevo detto fanno sul serio non ho paura di nessuno 100 giorni è finita 100 ore stiamo giù 100 minuti oddio oddio t'hanno preso scusi tanto si voleva prendere la caselli tutto per colpa mia tu sei un uomo d'oro un uomo d'oro ma scusa spangarlo ma sei recidivo ma io non ho quella voce lì però sei troppo brava senti ma hai visto